Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare una nuova collaborazione che ho iniziato da qualche tempo all'incirca un mese e soprattutto il primo video che faccio per questa collaborazione Si tratta di roba che mi ha inviato la P-Work War Games che sono un'azienda che fanno scenari per comunque giochi da tavolo giochi soprattutto o board game di stampo classico ma più che altro forse war game per andare su giochi come Warhammer, Fantasy o perché no anche Warhammer 40.000 o ambientazioni tipo di guerra, seconda guerra mondiale e cose del genere fanno scenari da battaglia, game mat per ambientazione ovviamente da battaglia si passa dal fantasy allo sci-fi come vi farò vedere ora a breve in questa praticamente coperta, in questo razzo che ho qui dietro e ultimamente la loro ultima uscita è stato il combat book che vi giuro non scherzo non uso mezze parole è la cosa in assoluto più figa che ho visto finora vi giuro in campo di creazioni intanto guardate quanto è grande, questa è la mia mano poi ve lo faccio vedere, questa è la mia mano e in campo creazioni fantasy per giochi da tavolo barra giochi di ruolo ragazzi questa è la cosa più bella che ho mai visto fino ad oggi e vi giuro non scherzo vale più di 100.000 manuali ed hanno avuto un'idea bellissima e da quanto ho visto sta andando anche a ruba perché su facebook ne sta parlando chiunque quindi sta vendendo veramente un casino e qui c'è la codina di una gatta che cattura le faccio vedere tutto quanto nel dettaglio quindi intanto colgo l'occasione per ringraziare la P. Work War Games di avermi mandato tutta questa roba grazie ragazzi davvero di cuore è un onore collaborare con voi spero che questa cosa ovviamente possa andare avanti e grazie veramente di cuore perché come vi ho scritto nemmeno nel tempo di due o tre ore mi avevate già risposto e tutto e se era già organizzata la spedizione quindi ragazzi grazie veramente per la possibilità concessermi è un onore e vi faccio vedere un visto di unboxing perché c'è poco da unboxà però vi faccio vedere cosa mi hanno mandato partendo dalla parte più grande ovvero il game mat spostiamo tutto perché mi serve no tavolino il soppalco questo è il game mat che tanto trovate tutto nel primo link in descrizione che è il sito loro della P. Work War Games e tra l'altro sono italiani quindi comunque anche le potete contattare facilmente richiedere anche informazioni ma tanto comunque sul loro sito trovate tutte le informazioni essenziali ora il game mat che ho richiesto mi sono sbagliato io sulle misure è un po' troppo grande però se non erro questo si dovrebbe chiamare Badlands o qualcosa del genere ed è un game mat per uno scenario post apocalittico sci-fi in ambientazione se vogliamo Wasteland oppure perché no anche Fallout o Mad Max e ve lo srotolo piano piano ma ragazzi arrivando in fondo al tavolino dell'IKEA che non è nemmeno tanto piccolo è giusto insomma noi ci giochiamo a tutti i board game non c'entra ce ne vorrebbero tre di questi tavolini comunque ve lo srotolo un pochino intanto guardate la qualità poi ovviamente è bello spesso intanto guardate la qualità il disegno il colore cioè reale sembra veramente di vedere un paesaggio sembra quasi un paesaggio alla Marte qualcosa del genere o anche un Wasteland appunto di Fallout classico paesaggio dove non piove da una vita è tutto completamente desertico e guardate cioè che scena ci fanno anche semplicemente delle miniature una dipinta come nel caso del Tenente Calcius o anche altre miniature di Warhammer 40.000 su un game mat del genere non vi preoccupate perché questo game mat tutte le volte che faremo un wargame appunto in ambientazione sci-fi lo useremo sempre quindi vi faremo anche vedere delle partite e tra l'altro ve lo faremo vedere con lo scenario che ci hanno mandato loro cioè il dettaglio e ora spero che si veda nel video 4k ma penso di sì cioè guardate il dettaglio ragazzi di questo game mat sembra vero cioè fa paura fa impressione è fatto bene e tra l'altro è fatto dello stesso materiale di cui sono fatti tipo i tappetini del mouse una cosa del genere quindi è bello spesso e tra l'altro io ve lo consiglio veramente ora magari rivedete un po' le misure perché l'ho chiesto veramente troppo grande cioè però guardate che diamine di spettacolo portano sul tavolino e poi è fatto a scivolo è una cosa che mi piace perché non fa nemmeno grip non fa nemmeno aderenza quindi se prendete una miniatura di Warhammer 40.000 guardate come ce la spostate col dito cioè non è che ci si va a incastrare o magari casca o anche semplicemente armati di Warhammer messe dentro una base tutte insieme per tenere il reggimento ce le spostate cioè avete visto si potrebbe spostare un plotone direttamente ed è fatto veramente troppo bello la qualità è spettacolare e ora nel corso del video mentre vi faccio vedere altre cose ve lo lascio anche di sfondo ci sono arrivati 4 scenari come vedete con il loro logo P.Wark War Games 4 scenari della Combat Zone ce ne hanno mandate 4 pezzi e praticamente sono tutti quanti fatti in legno e sopra ci sono le istruzioni per come montarli e guardate ciascuno sono tutti uguali gli scenari che ci hanno mandato sono componibili ma tutti uguali in ogni scenario che ci hanno mandato tipo questo che poi vi faccio vedere all'interno ci sono direttamente due ponti come potete vedere e due basi rialzate tipo due piattaforme e cose del genere che poi uno se le può montare come gli pare qui ci fa vedere l'esempio piattaforma ponte piattaforme ponte cioè un collegamento con una discesa per salire sopra quindi questo è quello che ci hanno mandato quindi in tutti gli altri combat pack che abbiamo lì dentro abbiamo direttamente le stesse rampe tutte quante componibili per uno scenario che verrà bello grosso io prendo che penso che comunque prenderà di quello che vedete sul tavolo ne prenderà buono buono un terzo abbondante se non qualcosa di più istruzioni che ci fanno vedere come montare e poi qui ci sono tutti quanti pezzi ragazzi in legno in legno anche duro tra l'altro che dovete ritagliare dovete staccare e poi sono tutti quanti componibili ad incastro comunque intanto ve l'ho fatta vedere e ora poi nel corso del video ovviamente ve lo monto e vi faccio vedere lo scenario vi faccio vedere ora il combat book arriva la figata che quando l'ho visto sinceramente la prima volta su facebook che questi ragazzi della pworkwork games lo stavano pubblicizzando perché è uscito anche tra l'altro da poco hanno finito pre order e l'hanno mandato tutti quanti quelli che l'avevano acquistato intanto è gigantesco ragazzi la mia mano è un libro del genere di solito è grande così no? già guardate quanto è grande ci sono 64 pagine che potete usare singole o doppie per comporre scenari ovviamente sono pagine che non potete e non dovete staccare perché sono andate a rovinare però sono tutte pagine di scenari fantasy questo è fatto unicamente per giocare poi vabbè un deserto lo potete usare anche per altri giochi per capire però sono tutti quanti scenari fantasy tra l'altro sono tutte quante pagine lucide come vedete e ci potete scrivere tranquillamente sopra con un pennarello da lavagna non usate l'indelebile ovviamente pennarelli da lavagnetta a inchiosto secco che potete trovare direttamente dai cinesi ragazzi questi qua per capirsi che abbiamo preso dai cinesici anche sopra la gomma per cancellare e potete direttamente scrivere sulla mappa perché ci potete ho fatto uno smile ci potete creare ovviamente dei waypoint oppure anche perché no dei dungeon perché sono una mappa del genere aperta così uno ci potrebbe creare che ne so una casetta con un ponte con un camminamento se la può modificare come gli pare o anche perché no magari metterci una x per ricordare ai giocatori che in quel punto c'è un tesoro da prendere o qualcosa del genere e poi tranquillamente le potete andare a cancellare e a rimuovere come vedete e non ci rimane assolutamente sopra niente questo combat book lo potete usare per tutti i giochi che sfruttano le caselle hero quest dungeon saga star saga e giochi del genere oppure anche semplicemente per le vostre avventure a dungeon and dragons se dovete rappresentare una mappa e come sono messi gli eroi sopra si passa a una mappa boschiva per far vedere queste le potete usare a doppia pagina così insieme o separate magari uno dice la uso tutta oppure uno dice perché no la uso soltanto su una strada lastricata tipo romana per fare una strada che va verso il castello del re e non mi serve quest'altra parte questa qui guardate bellissima con un fiume le due parti qui ci si potrebbe tranquillamente fare un assalto perché mi viene in mente il ponte di sterling durante la prima battaglia di william wallace quando fece imbottigliare tutte quante le forze del plantageneto di inghilterra sopra il ponte e poi loro dai lati lo attaccarono per ucciderle e viene bello perché comunque già ti ci vengono diverse idee in mente come ce l'ho buttata una ora ad esempio su cosa crearci magari un ponte che deve essere conquistato una sponda e cose del genere si va sempre avanti qui c'è tipo anche come vedete un bivacco per gli eroi e queste sono mappe aperte poi si va ovviamente anche su mappe un pochino più complicato dove ad esempio potreste dire che ne so questo è un tipo di terreno accidentato che vi rallenta oppure cose del genere si arriva a delle rovine ragazzi guardate la qualità spettacolare si arriva a delle rovine antiche di un tempio o di una cosa del genere a una spiaggia quindi se volete simulare anche uno sbarco delle navi di vichinghi o qualcuno che arriva comunque un nemico da combattere altre zone ovviamente che potrebbero bloccare la linea di visuale io vedete vi ho detto che è un combat book fantasy ma che mi vieta qui di metterci uno space marine cioè potrebbe essere tranquillamente un paesaggio lunare qualcosa del genere poi si va su mappe più intricate tipo un labirinto se volete giocare la mappa di un labirinto oppure andando più avanti tra le mie preferite una vulcanica bellissima cioè qui ci potete anche a star wars si chiama po mustafar dove viene bruciato anakin il povero anakin una mappa desertica una mappa desertica più un oasi e qui iniziano le figate perché c'è un villaggio desertico quindi potete far finta che sia o una fortezza o appunto un villaggio desertico ed è bello perché vedete ci sono le entrate qui addirittura ci potete andare a mettere una porta di hero quest o magari ci potete mettere una porta in 3d di dungeon saga insomma tutte quelle che avete se va più avanti un paesaggio innevato per la maggior parte sono mappe aperte ve lo dico eh però tanto ragazzi o ci disegnate sopra come vi ho fatto vedere col pennarello o semplicemente prendete delle mura in 3d o insomma ve la create voi la mappa questa qui è soltanto la base sotto il game mat poi qui abbiamo un'altra fortezza magari una fortezza da conquistare con un centro città o qualcosa del castello e qui magari due torri da difendere o da conquistare un villaggio perché magari non potete dire magari questa qui è una taverna ci si ambienta una taverna una cosa varia un altro tipo di villaggetto e vedete sono molto varie e poi un'arena bellissima qui veramente ci potete fare uno scontro con magari prigionieri mercenari e cose del genere una mappa marittima comunque di porto di mare e qui ancora sempre vedete potrebbe essere un'arena un tempio poi ragazzi largo alla fantasia perché ce n'è veramente veramente per tutti i gusti e tra l'altro questo combat book è grosso è bello è grande e vi dico di più preparatevi perché a breve creerò un'avventura per mia moglie dimmi te preferisci che te l'ambienti su dungeon sa facciamo una osa andiamo vecchio stile hero quest farò un'avventura con le stesse identiche spiccicate regole di hero quest in una mappa del combat book ti va bene? no invece si li farò giocare un'avventura di hero quest con magari ci metto orchetti ci metto quelle del caos usando il combat book così vi faccio vedere cosa intendevo mettendoci le porte e cose del genere ragazzi è una figata disumana questo combat book vi giuro non scherzo morissi ora se dico una cazzata mi deve cascare la lingua è la cosa più bella che ho visto in un'ambientazione fantasy in tutto ci sono 45 mappe intere a due pagine e poi in tutto vedete sono 64 pagine a colori e ragazzi veramente come ne faranno un altro perché sicuramente visto il successo che hanno avuto ne farà sta andando a ruba e veramente compratelo come ne faranno un altro futuristico o sci-fi per giocarci magari ad alien ma ti immagini te ne fanno ora mi viene in mente così te ne fanno uno del genere ambientazione alien scontro finale cioè con tutti con tutti i corridoi magari della della nostromo oppure della sulaco io impazzisco e niente ragazzi ora vi faccio vedere qui sul game mat che vedete qui sotto vi faccio vedere direttamente lo scenario montato che vedete qui sotto 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 guardate ragazzi uno scenario finito e completo lo spettacolo che viene fuori ora quelli che vedete qui davanti sono la bellezza di quattro scenari perché sono quattro scenari che noi siamo andati a comporre io e mia moglie e mia moglie tra l'altro che le faccio un mega complimento perché c'è stata tutto il giorno per montarli scenari che comprendono addirittura la torre laggiù in fondo quella con la scalinata principale è proprio uno scenario a parte e poi ci sono altri quattro scenari compositi per una spesa che va intorno ai 90 cent euro una cosa del genere più ovviamente il game mat ora lasciate stare ragazzi qualche fanatico di Warhammer dirà ma che cavolo avete fatto abbiamo messo gli ultramarine di Warhammer Conquest che combattono contro i cultisti di Nargol e poi ci abbiamo messo anche dei generaptor che vanno ad attaccare così un po' un po' creando scompiglio in mezzo di eserciti abbiamo fatto anche per fare una specie di piccolo diorama per farvi vedere un po' come rende ora tutto quanto lo scenario come vi ho detto precedentemente sono fatti in legno abbastanza duro a dirvi la verità comunque è incompensato duro però lo scenario ve lo faremo rivedere più avanti abbiamo già comprato bombolette per colorare primer e cose del genere ovviamente non lo dovete vedere così color legno perché oddio fa già la sua porca figura però secondo me lo dovete vedere in uno scenario così noi siamo immaginati tipo una luna una struttura abbandonata anche volendo un pianeta come Marte arido e morto tra virgolette e vogliamo creare una struttura che dia anche nell'occhio e dia l'esalto all'ambientazione al game mat che abbiamo scelto quindi le faremo grigie le strutture le vedete completamente grigie quindi color ferro e leggeremo l'effetto della ruggine sopra quindi questo sarà materiale per nuovi video di painting che farà di vedere direttamente mia moglie e questa struttura che vedete ora ve la faremo vedere poi in un futuro video tutta quanta in color ferro immaginatevi completamente abbandonata un complesso minerario una cosa del genere abbandonata di un tempo dove non c'è più traccia umana e tutta completamente arrugginita si cercherà di fare un lavoro bello che ricordi anche un po' un'ambientazione tipo Headless Hope di Alien o qualcosa del genere comunque ragazzi lo scenario è bellissimo e appena ci leggiamo per bene il regolamento di Conquest di Warhammer Conquest ci faremo qualche partita io e mia moglie e ci sarà sicuramente divertissimo da morire o se no si può usare tranquillamente anche le regole normali di Warhammer 40.000 a fare una battaglia che ne so una difesa finale contro i Gen Stealer o cose del genere per farvi vedere una cavolata immaginatevi una partita ad HeroQuest direttamente tante avete visto anche le caselle sono tutte quante divise in quadretti quindi ci si può giocare tranquillamente ad HeroQuest giocando su questa mappa e mettendoci direttamente gli elementi scenografici di HeroQuest magari qui c'è una porta chiusa che una volta che viene rivelata nel buon vecchio HeroQuest il Dungeon Master si è fatto la mappa sostituisce con la porta aperta e magari inizia a mettere un po' di elementi scenici magari qui c'è un'altra porta chiusa che porta a uno sgabuzzino magari qui c'è un camino facciamo conto che sia una locanda una cosa del genere e qui da un lato c'è un tavolino ora magari l'ho fatta un po' troppo confusionaria però per farvi capire insomma un pochino come potrebbero essere disposti e anche qui ci si inizia a buttare magari mostri nel buon vecchio stile quindi aprendo la porta appare un orchetto qui un Goblin qui e i nostri eroi che sono sempre per me sono quelli più iconici alla fin fine il Barbaro che va avanti e ha aperto la porta e il Nano invece che decide di andare avanti da questa parte qui perché anche laggiù in fondo ha aperto una porta e aprendo la porta anche qui ha rivelato quello che c'è all'interno cioè ragazzi guardate com'è bello poi vi ripeto ci potete anche scrivere sopra quindi se ci volete scrivere sopra per magari ricordarvi che in quel punto c'è una trappola oppure anche semplicemente per ricordarvi che in quel punto ci potete fare sarebbe bellino un disegnino qui invece di farci un token tipo un disegnino con una leva da tirare che l'obiettivo della missione magari la leva fa girare che ne so qui il camino e rivela un passaggio segreto per andare magari in un'altra zona magari perché no qui questa porta era chiusa e appare una porta che porterà alla stanza di qua dove magari c'è un prigioniero un sotterraneo una cosa del genere cioè guardate lo spettacolo che è questo combat book e vi assicuro questo è il regalo perfetto per soprattutto qualche dungeon master per fare le sue avventure perché lo potete usare tranquillamente anche per appunto creare le vostre avventure e tenere sotto controllo gli spostamenti del party però anche per chi gioca a board game come me cioè io ve lo dico la prima avventura che farò con regole mie cioè non con regole mie con una mappa mia a mia moglie userò questa mappa che state vedendo e gli farò un'avventura qui che sarà una figata assurda c'ho già qualche idea in mente quindi in conclusione io ringrazio da morire la pwork wargames per tutta la roba che ci ha mandato quindi i quattro scenari componibili dello sci-fi terrain in più il combat book che ci hanno mandato che è di una figata disumana e il game mat che è un po' troppo grande perché davvero è tre metri cioè mi ci avvolgo dito la notte e ci dormo però l'avete visto immaginatevi lo scenario su questo tavolo nero dell'ikea bellissimo che avete visto poi mia moglie lo sta colorando sta andando al primer e tutto ve lo faremo vedere ma non ve lo faremo vedere in un altro video a parte vi ci faremo vedere una partita a warhammer conquest vi dico solo questo perché abbiamo la voglia di giocarci che muoio c'ho già anche l'idea di crearci un'avventura dove tipo un gruppo di ultramarine vanno lì in quella base su un pianeta su una luna abbandonata e vedono e scoprono che è infestata del genstealer che dopo dovranno insomma liberare la zona e poi essere portati via a salvo ti farò morire di paura ti dico solo questo grazie comunque se a me non ci sono l'ali non mi diverto comunque ragazzi questa roba è bellissima trovate il primo link in descrizione col sito quindi tutto quello che avete visto lo trovate sul loro sito se vi posso dare un consiglio spensierato se siete giocatori di ruolo o se siete giocatori di board game prendete il combat book ragazzi è l'osa più bella che ho mai visto vi giuro creata per giochi da tavolo è la cosa più bella e geniale che abbia mai visto e quindi è una cosa che veramente merita primo link in descrizione se devo dare un voto ma è impossibile può dare un voto perché dovrei dare un voto per ciascuna cosa comunque per tutto il materiale ricevuto per la cura che ho visto che hanno per i dettagli e cose del genere do assolutamente un 9 su 10 che è meritatissimo e poi tra l'altro questa roba oltre ad essere bella c'è anche il giusto prezzo perché io con mia moglie andavo sul sito guardavo facevo lo scenario numero 1 mentre lei lo montava andiamo a vedere un pochino si è questo qui sul sito vado a vedere il prezzo sotto 20 euro cioè una torre grossa così con tutti i camminamenti ballatoi e cose del genere 20 euro due piattaforme collegate che già è uno scenario così compri quello già ci ha fatto uno scenario per giocarci a qualcosa 20 euro cioè c'hanno anche dei prezzi di concorrenza disumane e la roba è veramente bella quindi grazie di cuore alla Pwork War Games è un onore collaborare con voi spero che ci sarà un modo di continuare questa nostra collaborazione e ragazzi ovviamente in descrizione il primo link è quello dove acquistare questa roba poi tutti quanti i nostri social seguiteli soprattutto magari anche Facebook e Instagram e se volete scrivere qualcosa insomma sotto commenti tanto vi risponderò sempre ciao ragazzi alla prossima